Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Giovanna Vitale, giornalista politica di Repubblica, buonasera, bentornato Mario Secchi, direttore di Libero e bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora Giorgia Meloni anche oggi ha continuato a descrivere un'Italia in cui tutto va bene, tutto va bene, subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Marco Travaglio, allora oggi Giorgia Meloni è stata in tour a Trento e Bolzano per gli accordi di coesione sul PNRR e ha detto che l'Italia oggi è una nazione modello e che è fiera dei record economici su occupazione, lavoro femminile e contratti stabili. La destra vince e continuerà a vincere perché Giorgia Meloni sta governando così bene? Noi siamo sempre un po' in preda all'isteria, quindi dopo le elezioni in Sardegna tutto male, il governo ha i giorni contati, adesso vittoria in Abruzzo tutto bene, il governo durerà vent'anni. Calma, le elezioni regionali sono elezioni regionali, l'abbiamo detto quando le ha perse la Meloni in Sardegna, lo ripeto personalmente perché lo penso adesso che le ha vinte dopo avere temuto di non vincerle in Abruzzo. La situazione economica è quella che dice la Meloni se andiamo a vedere lo spread che oggi è sceso ai livelli di due anni fa e se andiamo a vedere i dati che la gente non tocca con mano. Se andiamo a vedere i dati che la gente tocca con mano la situazione è abbastanza diversa, la crescita purtroppo con l'anno che stiamo attraversando non sarà certamente rose e fiori, sappiamo che è piantata, l'occupazione mascherano i dati dell'occupazione il fatto che c'è un boom di part time, di precariato. Gli investimenti del governo che non ha una lira sono praticamente a zero, quei pochi soldi li mettono in questo sogno o incubo del ponte sullo stretto che poi vedremo a chi servirà e se mai lo vedremo. Il patto di stabilità che è stato firmato e che la stessa Meloni ha detto che non l'avrebbe voluto così se avesse potuto scegliere ma non ha neanche combattuto per cambiarlo, ci costringerà a partire da 13 miliardi sotto zero nei prossimi anni, insomma non siamo alla catastrofe ma non è nemmeno l'età del loro, non penso che ci sia molto da festeggiare. Mario Secchi sei d'accordo, non c'è molto da festeggiare e i cittadini percepiscono questa Italia in continuo miglioramento e a proposito di quello che ha detto anche Marco Travaglio, lui dice i dati che la gente tocca con mano e quali sono questi dati? Perché oggi il governatore di Banca Italia Panetta ha detto che l'Italia potrebbe ricadere nella trappola della bassa crescita, quindi speriamo di no, speriamo che i dati economici sono percepiti così positivi dai cittadini? Ma dunque, noi veniamo da una situazione complessissima dal punto di vista storico, quindi l'economia naturalmente è sempre il primo punto nell'agenda, non solo quando si va a votare, solitamente gli indici di fiducia di famiglie e imprese non sono quelli che misurano la situazione, diciamo il sentiment. Poi ci sono i dati degli economisti, l'economia viene definita scienza triste e quindi non c'è mai da essere troppo eiforici e nello stesso tempo però non bisogna neppure deprimersi. L'Italia ha fatto ottimi risultati, dal 2019, anno prepandemico ad oggi, l'Italia ha messo a segno la miglior ripresa delle grandi economie avanzate dell'Europa. Questo vuol dire che siamo a cavallo? Ovviamente no. Anche grazie al super bonus, diciamolo. E che però, esattamente, anche, scusate, allora anche grazie a Mario Draghi, dice Giovanna Vitale. Dal 2019 ad oggi noi abbiamo avuto in questo frangente però che cosa? La pandemia, due anni di pandemia, la chiusura dell'economia, il lockdown e lo sprofondo. Era logico naturalmente che quando si sarebbero poi riaperte le attività economiche ci sarebbe stato quello che si dice un decollo a razzo dell'economia. Poi c'è stata una fase di assestamento. In che cosa siamo stati forti noi italiani, quando è arrivato l'assestamento, nel non precipitare di nuovo? Che cosa è stata forte, Giorgia Meloni? Politica prudenziale di bilancio, molto attenta, rassicurare i mercati, lo spread l'ha ricordato anche Travaglio, lo ricordo anch'io, è un dato importante, è chiuso a 127 oggi, minimi dal 2021. Abbiamo fatto una politica che ha imposto delle scelte sul cuneo fiscale e così via, quindi una politica del reddito curata. Quindi diciamo la politica economica di Draghi portata avanti? No, la politica economica di Meloni perché ha fatto il cuneo fiscale, lo ha confermato, in presenza di risorse limitate ha fatto delle scelte precise scontentando qualcuno, ma nello stesso tempo con una politica dei redditi che dice che sono cresciuti, lo dice all'Ox. Aspetta, aspetta, aspetta. È andata bene alla fine, poi bisogna vedere come andrà nel 2024. Ti chiedo a te, Giovanna, se è andata bene, se continuerà ad andare bene, perché tra le cose che ha detto oggi Giorgia Meloni rispondendo a una domanda su leader della Lega Salvini ha detto che il centrodestra ha vinto, non vedo nulla di preoccupante. Quindi tutto bene sul fronte economico e anche sulla coesione della maggioranza di governo? Allora, sul fronte economico vorrei dire solo due cose, cioè che è vero che l'occupazione è salita, ma l'occupazione in Italia resta la più bassa d'Europa e quindi forse qualche cosa bisogna fare di più. Anche sul reddito delle famiglie che la presenza del Consiglio dice che è cresciuto, ma c'è stata una crescita fisiologica perché il reddito delle graniglie, per via della crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina soprattutto, si era in qualche modo molto eroso e quindi c'è stato un piccolo rimbalzo. Detto questo, contenta la Presidente del Consiglio, contenti tutti perché anche i salari restano, nonostante il taglio del cuneo fiscale, ricordo, confermato da Giorgia Meloni, ma fatto da prima, se non sbaglio, dal governo Conte II e poi anche dal governo Draghi, quindi insomma non c'è una grande invenzione e innovazione dal punto di vista economico da parte di Giorgia Meloni. Detto questo, anche sul fronte politico io vedo una coalizione, nonostante la vittoria in Abruzzo, in grave difficoltà perché c'è un partner della coalizione, nello specifico Salvini, che è in crisi nera sotto il profilo dei consensi, messo in discussione all'interno del suo stesso partito che sta pensando di in qualche modo sottrargli la leadership e tutto questo crea una grande fibrillazione anche all'interno. Non dimentichiamo che Fratelli d'Italia ha fatto anche una campagna acquisti molto aggressiva sul territorio, sottraendo anche classe dirigente a Salvini, quindi insomma all'interno c'è una fibrillazione, una tensione vera che secondo me ha anche contraccolpi sull'azione di governo. Anche il contraccolpi sull'azione di governo, Marco Travaglio, è più preoccupata Giorgia Meloni dalla perdita di consensi della Lega o dall'acquisto di consensi di Forza Italia? Ma anche lì la situazione abruzzese ci ha fatto pensare che adesso Forza Italia sia diventata il secondo partito della coalizione. Calma, c'era una situazione locale ben precisa dove ci sono dei ras locali che hanno tirato voti. In Forza Italia è entrata la rappresentante dei 5 Stelle che aveva esaurito i suoi mandati e questo in parte spiega insieme alla presenza di Calende Renzi e alla figura non troppo brillante del candidato di centrosinistra l'insuccesso dei 5 Stelle. Quindi è chiaro che la Meloni che non è stupida, anzi tutt'altro, tutto si può dire di lei tranne che sia stupida, lo sa benissimo che quando un suo alleato soffre come sta soffrendo Salvini, lei ha poco da stare allegra perché comunque il suo 27-28% a seconda dei sondaggi o delle urne non basta. Se Salvini rientra in modalità papete può essere l'unica ragione per cui questo governo rischia di non durare 5 anni. Quindi credo che Salvini... Ma perché dovrebbe? Scusa, anche Salvini vuole stare al potere. Marco, scusa, anche Salvini vuole continuare a stare al potere. Lilli, è la fiaba della rana e dello scorpione. Perché lo scorpione dovrebbe pungere la rana? Ce lo domandavamo tutti anche nel 2019. Stava come un pascià nel conte 1. Perché doveva farlo cadere? A un certo punto l'ha fatto cadere. Cioè la natura... Prendi Renzi. Renzi non ha voluto il governo con i 5 Stelle, poi l'ha voluto, poi l'ha fatto cadere. Sono dei leader che vanno conosciuti. È nella loro natura quella di distruggere quando non riescono più a comandare. Magari non succede, però Giorgia Meloni, che è intelligente, sa che questo può essere l'unico fattore destabilizzante della sua maggioranza. E Czecchi è in profondo disaccordo, ho capito bene? Sì, perché non si può fare il parallelismo con il 2019 nel caso della Lega per un semplice motivo. Che la Lega allora era nella fase di massima espressione della sua forza. Aveva vinto tutti i cicli elettorali regionali fino a quel momento, c'era un forte dissidio con Conte e Salvini ha provato l'all in, come si fa a poker, no? Ha cercato... I pieni poteri. Ha cercato le elezioni anticipate che poi non sono arrivate e è rimasto, quando si fa il gioco del cerino, in politica si dice, è rimasto col cerino in mano. Naturalmente... Ma Salvini continuerà a restare il leader della Lega anche dopo l'Europa e se il risultato non sarà brillante? Ti dico la verità, fatico a vedere un altro leader al posto di Salvini a guidare la Lega, perché la Lega è un partito molto interessante dal punto di vista dell'analisi proprio sociopolitica. È il partito, tutti lo dimenticano, ma è il partito più antico d'Italia, fondato da Roberto Bossi, fondato su una cosa importante che è la questione settentrionale, che ha avuto alti e bassissimi e Salvini, bisogna dare atto poi alla cosa storica, prese quel partito che era in macerie, aveva il 4%, travolto dagli scandali e lo ha portato al 34%. Ora uno dice sì, ma poi uno dice, ah certo, ma Salvini ha avuto, poi adesso ha un problema grande di consenso quotidiano. Sì, che è abbastanza, scusami, ti interroppo solo un secondo, è abbastanza impressionante vedere queste ascese rapidissime e poi discese arditissime di tutti, perché abbiamo visto la Lega, scusa Mario, abbiamo visto la Lega, abbiamo visto i Renzi, tutti i Renzi, abbiamo visto anche il Movimento 5 Stelle. Esattamente. Allora, hai appena anticipato quella che è secondo me, diciamo, la fase storica che viviamo della politica contemporanea. La politica è come la società contemporanea, è un momento in cui c'è una fortissima accelerazione negli eventi e sono tutti compressi, non solo accelerati, ma anche quello che si chiama il rate, è tutto completamente schiacciato e anche le leadership, quindi, hanno un ciclo di vita più corto. Ora, la scommessa di Meloni è quella di andare in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto. Per finire, Rapido? Rapido. Salvini gioca una partita da qui alle europee e anche dopo con la sua classe dirigente. a tutt'oggi, però, se tu mi dici c'è una successione, io ti dico no. E lui difenderà giustamente la sua posizione fino all'ultimo. Fino all'ultimo, giustamente, Giovanna Vitale. Tu cosa pensi? Voglio arrivare a Eli Schlein e a Conte, perché tu oggi hai fatto un'intervista alla leader del PD sul tuo giornale su Repubblica. Oggi pomeriggio la Schlein ha detto che uniti si vince e si perde, divisi, non si gioca nemmeno la partita. Ma come fa la Schlein ad andare avanti con un partito, i 5 Stelle, che continuano a perdere voti? Sì, in questo però sono abbastanza d'accordo con l'impostazione del direttore Travaglio, perché il Movimento 5 Stelle tradizionalmente è poco radicato sui territori e non va mai bene, non va mai tanto bene alle amministrative e alle regionali, mentre trascina un bel pezzo di voto di opinione e invece quindi alle politiche o comunque vedremo anche alle europee, insomma di solito va piuttosto bene, i sondaggi dicono che sta decimale più, decimale meno, intorno al 15% e io penso che questa è la forza in questo momento del Movimento 5 Stelle. Eli Schlein ha fatto una scommessa che secondo me è molto azzardata, perché lei è convinta di fare una sintesi nelle differenze e quindi di riuscire a riunire diciamo in prospettiva sia a livello locale che sul piano nazionale tutte le forze che in questo momento si oppongono al governo Meloni. Non credo francamente che abbia molte chance di successo, però effettivamente siccome in politica… Questa alleanza strutturale con… No, di riunire in questo campo dei progressisti tutte le forze che si uniscono e che si oppongono al governo Meloni. Per fare la grande ammucchiata insomma. Quella che abbiamo visto adesso in Abruzzo. non credo che sarà possibile, perché ci sono tante personalità inconciliabili tra loro, Calenda con Conte, tanto per ritenderci. Ma sono gli elettori poi che non la vogliono, c'è quel problema. Soprattutto le elezioni in Abruzzo ci dicono, oggi c'è un bellissimo studio del Cattaneo che ci dice che gli elettori del Terzo Polo non hanno votato l'alleanza perché c'erano i grini dentro e viceversa. Alcuni elettori del Movimento 5 Stelle non hanno votato perché c'era il PD e anche Calenda dentro, quindi diciamo o si fa qualcosa per convincere gli elettori che si tratta di una coalizione vera, coesa, che si unisce su un programma e su una leadership, oppure non credo che ci saranno… Tu anche sei molto perplesso su un'alleanza diciamo più strutturale tra Eli Schlein e Giuseppe Conte, del resto non ha ragione la leader del PD quando oggi dice uniti si vince e si perde, divisi non si gioca nemmeno la partita. La matematica dice Giovanna giustamente. Le elezioni comunali hanno un sistema elettorale a doppio turno, le elezioni regionali hanno un sistema maggioritario a turno unico, le elezioni politiche hanno un sistema misto fra proporzionale e maggioritario che favorisce le coalizioni. In ciascuna partita bisogna giocare con le regole di quella partita e quando si sbaglia e si gioca a 3-7 con le regole della scopa che si perde e quando si va alle politiche divisi come ha fatto quel genio di Enrico Letta che non ha pensato nemmeno di fare 20 desistenze al Sud e ha regalato il Parlamento e il governo alla Meloni. Ma quest'idea che per governare insieme a livello nazionale bisogna fare l'alleanza strutturale è una cosa che non ha nessun senso e infatti il centro-destra non ha nessuna alleanza strutturale. Nella scorsa legislatura sono riusciti addirittura a stare sempre alcuni all'opposizione e altri al governo eppure hanno vinto le elezioni politiche. Ma dicono che stanno insieme da 30 anni e con gli stessi valori e intanto possiamo anche dire che marciano divisi ma poi colpiscono uniti, questo è un dato di fatto. Ma il governo Conte 1 c'era la Lega e non c'erano la Meloni e la Meloni. Nel governo Conte 2 non c'era nessuno, nel governo Draghi c'erano la Lega e Forza Italia e non c'era la Meloni, non sono mai stati insieme nello stesso governo. Quando si sta all'opposizione, quando non si ha la maggioranza per governare, bisogna differenziarsi il più possibile, io infatti sono per il ritorno al proporzionale. Ma non c'è il proporzionale. Quel 48% che non ha votato né in Sardegna né in Abruzzo lo recuperi in parte soltanto esaltando le differenze. La gente non vuole votare tra due ammucchiate. Il bipolarismo è finito nel 2013, prendiamone atto. È inutile cercare di cambiare gli elettori. Uno può anche tutti i giorni dire a Conte quello che deve fare, a Lars Klein quello che deve fare, ma se gli elettori non li seguono è assolutamente inutile. Se dici a Conte mettiti con calende e correnzi che ti troverai bene, cioè con quello che gli ha fatto opposizione e quello che gli ha buttato giù il governo. Benissimo, mettiamo che sia così stupido da farlo. Ma se gli elettori poi non lo votano, la somma non è soltanto zero, è sotto zero. Allora qui adesso parliamo di PD e 5 Stelle però. Esatto, esattamente. Ma non sono solo. Come diceva Giovanna Vitale, l'idea balzana della Schlein è mettere insieme a Conte, Calenda e Renzi, cioè il diavolo e l'acqua santa, e non sto dicendo chi è il diavolo o l'acqua santa, semplicemente due po', l'olio e l'acqua, che non stanno insieme. Gli elettori non li seguono, non è che tu dirigi con 3-4 burattini tutta la baracca, perché poi la gente sta a casa. Allora, il progetto, l'idea di Travaglio è un indietro tutta nella storia politica. In realtà, Marco dice il sistema, il bipolarismo è finito. No, sta riniziando, questa è la verità. Fallito. E abbiamo visto gli esperimenti, uno ha funzionato, un altro meno, parlo di Sardegna. Quindi, insomma, un polo di destra centro, un polo di centro-sinistra. Ma la naturale è ineludibile, tendenza è quella di andare verso di nuovo un sistema... Beh, come tu sai, però, Mario, dipende dalle leggi elettorali, nel nostro paese cambia... Arrivo alla proposta di Travaglio, perché Travaglio, con, diciamo, intuizione e intelligenza, cosa dice? Dice, io voglio un sistema proporzionale. Ma certo, è il sistema migliore per il Movimento 5 Stelle, tanto per essere chiari. Mani libere, nessuna... No, è per portare la gente a votare. Marco, scusami. Per portare la gente a votare che non ci va più. Mani libere, io faccio quello che voglio, non c'ho nessun patto di coalizione, non devo presentare un programma con i miei alleati, non devo dire chi sarà il capo del governo, cioè non devo dichiarare assolutamente niente. E questo è in totale controtendenza rispetto alla contemporaneità. Aggiungo un'altra cosa, che il progetto del premierato è ovviamente antitetico rispetto a un sistema proporzionale. Dunque, spingere, diciamo, l'idea proporzionale serve a che cosa? A smontare l'idea, poi, delle riforme istituzionali. Giovanna Vitale, puoi trovare. Io volevo solo dire una cosa, non è che adesso la segretaria Schlein, di cui io non voglio fare l'avvocato diversore, anche perché non ne ha bisogno, ha detto facciamo una grande ammucchiata, ha detto semplicemente ci sono dei temi e quindi un programma su cui si può lavorare e condividere e quindi adottare un metodo. E poi perché la coalizione di centrosinistra sembra sempre un'armata a Brancaledone o una grande ammucchiata? Perché mentre, appunto, come diceva Lilli, il centrodestra si presenta unito da 30 anni, questa coalizione fatica persino a nascere. Allora, gli elettori devono anche in qualche modo avere fiducia che non si tratta di qualcosa di sempre di improvvisato, di mobile, che cambia da un momento all'altro in base alle idee che cambiano se interpretate da Conte, esattamente, piuttosto che da Schlein. Ci vuole, diciamo così, un'intenzione comune fondata su temi concreti con, ovviamente, anche una lidea credibile. Però dice Travaglio che se poi ci sono le idee rinzi e 5 Stelle non vanno a votare per questa larga. Ma non vanno a votare perché? Perché non ci credono. Perché ogni volta ci sono dubbi, perplessità, uno che spara contro l'altro. Cioè, proviamola prima a far nascere questa alleanza, a farla fiorire. E poi vediamo se funziona o non funziona. C'è il problema. Non condanniamola prima del tempo. Marco Travaglio? No, io resto dell'idea che o ci rassegniamo al fatto che metà degli italiani non vadano più a votare, come era negli Stati Uniti addirittura i due terzi non andavano a votare, se non ricordo male, prima che si riscaldasse di nuovo il clima con lo scontro Trump-Biden. Oppure dobbiamo porci una domanda. Perché non vanno a votare? Non vanno a votare intanto perché vedono che loro votano e poi a un certo punto il Presidente della Repubblica fa un governo tecnico e se ne infischia di quello che hanno votato loro. E questa è una ragione. Appunto, ma io non ho detto che è un golpe. Ho detto che è un incentivo a non votare perché è un messaggio come dire il vostro voto non mi interessa. Ma se i partiti non si mettono d'accordo, scusa, non è che i governi tecnici sono nati così... Non si può parlare male dei Presidenti della Repubblica. Io penso che i governi tecnici siano stati nefasti per la partecipazione popolare perché hanno detto alla gente che il loro voto non costa niente. Tutti i partiti li hanno votati i governi tecnici però. E hanno fatto malissimo e io non sono un partito e quindi sono libero di dire che i governi tecnici mi fanno schifo. Seconda cosa, se io non posso indicare sulla scheda la mia preferenza o il mio candidato perché c'è il listino bloccato deciso dalla segreteria del partito è un altro segnale che il mio voto non conta niente. Terzo, se mi propongo in una mocchiata nella quale devo scegliere o tutta la destra insieme oppure la mocchiata dall'altra parte che va da Renzi a Fratoianni, io sono liberissimo di starmene a casa. Io, se fossi stato un abruzzese, avrei dovuto puntarmi una pistola alla tempia da solo per trascinarmi al voto, per andare a votare una roba dove c'erano dentro delle persone che stanno votando le porcherie sulla giustizia di Nordio. Mi sarei astenuto probabilmente se non avessi trovato una forza interiore pazzesca per andare a votare un candidato appoggiato da Renzi e Calenda che stanno suggerendo porcherie sulla giustizia per peggiorare le porcherie di Nordio. Non so se mi spiego, gli elettori sono diversi da come li immaginano i commentatori dei grandi giornali, sono delle persone che si ricordano le cose, sono anche dei cagacazzi e io li capisco che certa sbobba non la vogliono più digerire. O noi ci rassegniamo al fatto che metà di loro ce ne infischiamo e quindi gli riproponiamo la sbobba dei primi anni 2000, finto centrodestra e finto centrosinistra che poi sono due facce della stessa medaglia, oppure gli consentiamo di votare qualcosa in cui si riconoscono e l'unico modo è proporzionale. 30 secondi, Marco Travaglio dice che vuole il proporzionale, apprendo che vuole anche le preferenze, segnalo che non c'è la prima Repubblica, ma sarebbe un ritorno alla Prima Repubblica nella quale non c'è mai stata alternanza, cioè hanno sempre governato i centristi, i vari alleati, i pentapartiti, sarebbe un passo indietro enorme proprio e devo dire un colpo alla democrazia. Quello forse non azzardiamo tanto, però adesso io azzardo farvi vedere il punto... Come un voto è un voto uguale all'altro, quello è la democrazia. Cosa di cosa... Il sistema più democratico che c'è il proporzionale. Va bene, va bene, ne riparleremo. I voti contano uguale senza premi di maggioranza. Bene, ne riparleremo il punto di Paolo Pagliaro. C'è un gioco che si ripete da anni e che serve a misurare il grado di alfabetismo scientifico degli italiani. Si tratta di dire se sono vere o false queste tre affermazioni. Gli elettroni sono più piccoli degli atomi. Gli antibiotici uccidono sia i virus che i batteri. Il Sole è un pianeta. Nel 2007 rispondeva correttamente dal 38 al 50% del campione. Quest'anno le risposte esatte superano il 60%. È un dato confortante, anche se come osserva Luca Carra, direttore della rivista Scienze in rete. Resta il rammarico per il fatto che 4 persone su 10 non sappiano che il Sole è una stella e che ai virus gli antibiotici non fanno un baffo. In tutti i casi, negli ultimi 20 anni, la cultura scientifica degli italiani ha fatto molti progressi. Ed è questa la buona notizia che porta all'edizione 2024 dell'annuario Scienza, Tecnologie e Società, che contiene il test di cui si è detto e che esce in questi giorni edito dal mulino. L'annuario è curato da Massimiano Bucchi e Giuseppe Pellegrini dell'Università di Trento, Andrea Rubin dell'Università di Ferrara e Barbara Saracino dell'Università di Bologna. Tra i molti dati che hanno raccolto ci sono quelli sulla popolarità e la reputazione degli scienziati, che risultano le figure più degne di fede, ben più di politici, ambientalisti, giornalisti e altri soggetti sociali. Hanno fiducia soprattutto ai più giovani, che della scienza apprezzano il fatto che sia pronta a riconoscere gli errori e a correggerli. Virtu rara tra i giornalisti e rarissima tra i politici. Siamo in chiusura, grazie Marco Travaglio, grazie Giovanna Vitale, grazie Mario Secchi, grazie spettatrici e spettatori. Adesso state con noi, linea Floris al suo di martedì e noi come sempre domani 8 e mezzo. Arrivederci.